Qui abbiamo un box un po' difficile, sono tutti cani abbastanza spaventati, qui c'è Ginny, bello spinone, timido, timido, sono tutti assolutamente buoni, non aggressivi, ma canetti molto spaventati. Abbiamo Orsetta, bellissima Orsetta, ecco sono tutti cani che avviciniamo ma cerchiamo di non stressare, c'è Goofy, un po' più di tontello Goofy, e Giorgi, o forse lei è Michelina, e qui abbiamo Gordi, Gioffri, e lei è Michelina, piccola e spaventata, piccoli e spaventati, sono dei gagnolini di taglia decisamente piccoletta, il più piccolo peserà 8-9 kg, e il più grosso che è questo cicciottello, giusto perché cicciottello, ne peserà 15 forse, mentre Ginny ne fa qualcosa di più, 17-18, sono dei cani buoni, assolutamente buoni, ma spaventati, spaventati dal canile, spaventati dalla vita che fanno, spaventati dall'essere stati abbandonati, hanno bisogno di una situazione tranquilla, di una casa, di una famiglia che possa amarli e possa avere la pazienza di dargli il tempo di ambientarsi, se c'è un altro cane ben socializzato sicuramente aiuterebbe, come vedete questo è un box dove sono tutti nella stessa condizione, di certo nessuno aiuta nessuno, uscire da questo canile potrebbe rappresentare per loro la salvezza e l'inizio di una vita nuova, una casa con un giardino, in maniera di non avere lo stress di dover portare fuori il cane nei primi tempi, persone, pazienti che sappiano tranquillizzarli e un altro cane ben socializzato che aiuti nei rapporti umani e poi un rapporto quotidiano di carezze e coccole, lo sapete benissimo, aiuta sempre.